Su l'altro ci sarà un intero mezzo di freschi, che è tutto dire, e poi chiudiamo io e Giampiero e qua c'è la ricosta, non si so dire. Simone Riva Morato! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Allora, prima di suonare, in realtà prima di arrivare qua c'è in macchina, mentre guidava, Simone Riva Morabito, al quale va un altro applauso, ogni volta che lo dice Simone Riva Morabito, applauso, aveva detto ricordami di raccontare che ho fatto per successo ieri sera, io non ho fatto per successo ieri sera, come non è vero? Allora, non lo so, forse si è pentito di volerlo raccontare, ma vi assicuro che mi aveva ricordato di ricordare. Praticamente ieri sera non è che ero volerlo raccontare, più che sciocco. Ah, ti ricordati di dirlo a loro che... I soliti muzzurri si sono presi a botte sotto la casa mia e ho dovuto chiamare Carabiniti, perché ho paura che sicuramente moriva, e quindi chiamare Carabiniti. Molto semplice, invece parlare di questa anzonia non lo so mai. Simone Riva Morabito! Allora, io ho scritto questa anzonia dedicata a Gigi Marazzullo, per due motivi. Uno, perché sono appassionatissimo delle sue interviste, concordo, e poi mi so... Come si chiama? Giovanna Bizzarri. Giovanna Bizzarri. Io sono Giovanna Bizzarri. Bella, brava e sorridente come tutte le notti, Giovanna Bizzarri. Per due motivi, Giovanna Bizzarri. Io era questo che mi avevo proprio dovuto alla sua professionalità, alla sua serietà. E non c'è a fare male tutti i pezzi che le propongo. Ma incredibile. Giovanna Bizzarri, grazie. Però, l'altro è perché per anni ho fatto un sogno pessimo, che facevo spesso, tipo almeno una volta al mese. Quindi volevo raccontare questa cosa per la prima volta, lì, in diretta, a Rai 1, un giorno in cui si era diventato famoso. Quindi, invece, ho fatto questo pezzo, ma ora ho detto a voi, quindi lo so che... Adesso che è giustamente famoso, suoneremo questo pezzo di Riva. E si chiama Mazzurro. Simone, Riva, buon anno. Simone, Riva, buon anno in cui si chiama Mazzurro. Riva, buon anno in cui si chiama Mazzurro. E vorrei andare da un giallo a raccontarlo a tutti i sogni che faccio. Vorrei essere intervistato per raccontare quello che sono. Vorrei essere intervistato e diventare finalmente famoso. Questa volta mi mazzo che non, questa volta mi butto di solo. Mi faccio del male, mi faccio del male, questa volta mi faccio ammazzare. Perché dico quello che penso, ma ci penso nemmeno un momento. Questa volta mi dice male, se non mi fate nemmeno parlare. Vorrei essere intervistato e raccontare quello che sono. Vorrei essere intervistato e diventare finalmente qualcuno. Ho la vita un bellissimo sogno e sognando da vivere il meglio. Mi sa che sono tantino confuso. Frega al futuro, non so chi mi sa. Scrivo davvero, questa volta lo faccio sicuro. Con soli cent'euro si può pubblicare. Chiedo a mamma se me li vuotate.